ragazzi mai avrei pensato di registrare un video del genere quando ho aperto questo canale siamo di fronte a qualcosa di straordinario ho creato sto creando il mio chat bot ragazzi perché la versione 4 di cagpt si è aggiornata e hanno rilasciato i gpt possiamo creare delle app mi sento male iscriviti al canale perché ti insegnano come fare business si aprono nuove opportunità di business online grazie a cagpt fate l'abbonamento perché è qualcosa 20 dollari al mese tu puoi creare e ancora la gente mi dice che ti iscriviti al canale mi devo calmare perché oggi un video epocale allora possiamo ora vi dico l'opportunità di business iscritti al canale commenta amici il futuro sei tu scrivete qualcosa aiutatemi dobbiamo arrivare almeno a 15.000 iscritti entro alla fine dell'anno ma forza 20.000 è l'obiettivo 15.000 entro fine mese dai siamo a 12.000 aiutatemi iscrivetevi allora hanno rilasciato questi gpt noi possiamo creare delle app senza programmare semplicemente parlando con cagpt in futuro ci sarà uno store dove si potranno anche vendere in questo momento tu hai tre modalità di salvataggio e questa cosa mi ha mandato fuori di testa te lo puoi salvare solo per te lo puoi rendere privato con un link ed ecco che lì il mio cervello ha fatto sapete che ho un cervello lucroso io creo il mio chat bot ho il mio io adesso voglio voglio creare sono uno youtuber voglio creare un chat bot che parla come me in modo da offrirlo alle persone a pochi euro al mese che possono parlare sempre con me però lo devo affinare ora ho già ho provato ho fatto degli esperimenti ma ancora e ho scoperto delle cose telecondivido e ti faccio vedere come tu puoi creare ma tu anche se non è una community puoi creare un chat bot che risolve dei problemi lo puoi fare in modo molto accurato se conosci l'argomento quindi perché io gli ho chiesto adesso vi faccio vedere tutto iscriviti al canale se vuoi approfondire l'argomento di questo video ti ricordo che in descrizione c'è il link al mio corso gratuito di un'ora dove ti parlo della mia esperienza e ti spiego come io riesco a fare più di 3.000 euro al mese in organico con i prodotti digitali più un canale youtube più il blog e clicca in descrizione c'è il link oppure vai sul corso gratis punto michele maralino puntocom dove c'è un corso più approfondito di un'ora dove ti faccio vedere come io nella nicchia musica con il mio canale youtube michele marlino musica e i miei prodotti digitali e le mie consulenze riesco a guadagnare online con una mia competenza in una nicchia specifica che poi è il modo migliore più serio per guadagnare online forse l'unico modo vendere le tue competenze vendere prodotti digitali e vai in descrizione corso gratis punto michele marlino puntocom se vuoi approfondire anche tu a imparare come fare più 3.000 euro al mese in organico senza pubblicità senza spendere soldi in organico con un canale youtube o una pagina instagram un canale ti tocco con il social che preferisci il mio preferito è youtube ma si può applicare con qualsiasi social più un blog più i prodotti digitali e c'è un'offerta alla fine di quel corso molto interessante dove hai tutta la mia formazione se vuoi ancora ulteriormente approfondire e imparare passo passo come creare un sito internet che vende prodotti digitali come creare un blog come creare un canale youtube che ti fa guadagnare dalle affiliazioni dalla vendita dei tuoi prodotti e dalle collaborazioni dalle sponsor un mondo pazzesco e ti posso aiutare a seguire da vicino ma parti dal corso gratis punto michele marlino puntocom va in descrizione e scarica il corso gratuito di un'ora e adesso torniamo al video gli ho chiesto ma poi in bloccare siccome sono io michele marlino poi bloccare a chiunque di creare un bot secondo i miei video lui mi ha detto no non posso farlo ok però posso darti dei video che non sono pubblici e lui mi ha detto no non posso prendere informazioni private posso solo prendere video pubblici ok perché io gli ho dato come output come fonte il mio canale youtube allora poi gli ho chiesto adesso vi faccio vedere tutte queste cose vi faccio vedere come funziona e poi gli ho chiesto allora però poi mi ha detto però puoi mettermi del testo in più tuo personale scrivi e praticamente così lo rendi molto più simile a te quindi ho detto allora mi aggiungi avevo creato michele marlino business ho detto aggiungimi ufficiale e quindi sto creando michele marlino ufficiale e siccome sono io che li do che sono io che sono io diciamo anche se qualcuno se ne crea uno non potrà mai crearlo come lo io perché saprò io e immagini assomiglianza ma e quindi le persone saranno invogliate ad abbonarsi al mio più che crearsi in loro perché metti che dice vabbè me ne creo uno sito lo puoi fare ma non risponde bene perché io adesso lo devo proprio continuare a fornirli anche materiale che non c'è online che viene dalla mia testa ok stessa cosa sulla un argomento in generale tu vuoi fare un app che fa pronostici non lo so sei un appassionato di judo ecco vuoi creare un app con cui ripetere il judo non lo so però puoi personalizzarla e se sei un esperto puoi creare un app di judo è un esempio subito e poi promuoverti fatta da un vero esperto di judo il migliore nel suo campo e crei l'app quello risolvete da la gente si può abbonare chiedere praticamente dicendo sia buona paura momento e quella gente le persone possono utilizzare quest'app si possono creare mille cose adesso vi faccio vedere vi faccio vedere il suo funzionamento allora c'è gpt 4 vado su explorer explorer ed eccoci qua create un cagpt allora all'interno del nuovo cagpt 4 c'è anche ci sono anche dei gpt creati credo da cagpt ok che ti fanno c'è il cagpt classico il game time the negoziato creati in writing coach cosmic dream coloring book hero fantastico ok io ho creato questo e che è privato allora ve lo faccio vedere vi faccio come lo vi faccio vedere come l'ho editato e poi vi faccio vedere come potete crearne uno ma vi faccio vedere la vera opportunità di business è qui se io clicco edit vi faccio vedere tutta la chat mamma mia guardate mi sono fatto pure l'immagine oh ma lui ha cancellato tutta la chat maledizione io l'avevo salvato vediamo su configure no allora allora ve lo faccio vedere su uno nuovo però ecco quando tu vai su update e fai publish puoi pubblicarlo solo per me only people with a link se io lo faccio così lui mi darà un link mai michele maraglino e questa è anche è l'originale è ufficiale ma c'è scritto anche mai michele maraglino che è il mio account su cagpt quindi se tu hai una community hai un seguito se hai un canale sui social dove parli di qualcosa puoi creare il tuo bot ufficiale è quello dicevo io mi abbono perché quello fatto ufficialmente da michele maraglino ok quindi io che cosa gli ho detto gli ho detto gli ho detto praticamente capite esce by michele maraglino ok come gli altri sono stati creati da cagpt esce chi l'ha creato quindi tu se sei hai una pagina di scacchi che ne so online fai video consigli sugli scacchi ti credito account e fai ed è il tuo chat bot ufficiale lo puoi vendere questa è la prima cosa public se io vado sul public non mi dice mi dice andrà a finire praticamente qui credo ora non non ce ne sono ah vedete recente di user forse se clicco edit qui non ce ne sono di altre persone quindi in futuro creeranno uno store però faccio edit da qui no non mi allora stiamo calmi come posso avviare un business vedete michele maraglino business ufficiale esperto in business online basato sui video di michele maraglino come posso avviare un business online come posso monetizzare il sito web ancora non è se io gli chiedo secondo te qual è qual è il miglior ho scritto male qual è il miglior social oppure qual è il tuo social preferito vediamo se risponde youtube qual è il tuo il tuo social preferito vediamo cosa risponde michele maraglino business ufficiale come gpt michele maraglino business ufficiale non ho preferito non va bene personali ma posso dire che per il business online la scelta del social media dipende molto dagli obiettivi ma è troppo noioso ma instagram ottimo per il branding visivo e per raggiungere un pubblico più giovane è ideale per prodotti e servizi che possono essere valorizzati linkedin non manco il curriculum no 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 bisogna dargli molti 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 più input adesso vi faccio vedere posso stoppare allora ti posso dire posso inviarti video privati facciamo allora adesso vi faccio vedere sulla pagina create tu puoi parlare e chiedergli le cose quindi gli ho scritto creami un bot che sia di michele maraglino che diciamo risponda sui temi di business online e guadagno online basandoti sul canale youtube michele maraglino vedete e lui me l'ha creato poi gli ho chiesto puoi impedire agli altri di creare michele maraglino business dal mio canale youtube creare un chatbot simile e lui mi ha detto no non posso però puoi personalizzarlo qua mi sta dicendo allora posso inviarti video privati e lui mi dice attualmente non hai la possibilità di inviare video direttamente a questo gpt tuttavia puoi descrivere qualsiasi contenuto del video domande che hai sarò felice di aiutarti basandoti su queste informazioni posso darti ulteriori mie informazioni ulteriori mie informazioni qui via chat che non sono trovabili online credo di sì e con cui tu poi andrai ad aggiornare il mio gpt vediamo cosa mi risponde c'è il gpt wielder quello che costruisce il gpt certamente puoi condividere qui informazioni aggiuntive che desideri incorporare nel comportamento di michele maraglino business ufficiale queste informazioni saranno utilizzate per perfezionare il gpt in modo che risponda in maniera più accurata e specifica le tue esigenze tieni presente che le che le informazioni che fornisci devono essere appropriate e rispettose alle linee generali per l'utilizzo del gpt cosa vorresti aggiungere o modificare e io adesso ho fondato un calcio io adesso aggiungerò personalizzerò prenderò i video privati li trasformerò in testo gli darò in passo tutte le informazioni per renderlo me stesso gli dirò quello che penso come sono nato la mia storia gli darò tutto tutto lo renderò perfettamente identico a me sarà come parlare con me una volta che sarò riuscito a fare questo e questa cosa la posso fare solo io ok quindi c'è dice allora tutti si fanno le app non è vero la intelligenza artificiale è al servizio dell'uomo ok la fonte è l'uomo gli diamo più cose le diamo simili a noi lui che sappiamo solo noi io saprò fare io chi meglio di me saprà creare un chatbot io e allora le persone che dice vabbè parlare con Michele Maraglino costa 200 euro l'ora in consulenza però se parlo con il suo bot a 9 euro al mese ce l'ho sempre sì non è lui ma è il bot però mi può essere d'aiuto capite il business io poi una volta che avrò finito faccio only people with a link ma no non mica apro una paginetta per comprare su kickfund su gamarod compro il mio gpt abbonati su gamarod puoi fare gli abbonamenti mi sento male iscriviti al canale e la gente 100 abbonati 100 abbonati a 9 euro al mese sono 900 euro 200 abbonati a 9 euro al mese a 10 euro al mese 200 abbonati sono 2000 euro 2000 euro al mese ma ne puoi fare molti di più hai una community hai mille persone a 9 euro mi sento male mi sento male e tu praticamente non fai nulla cioè tu stai in spiaggia tu stai in spiaggia a lavorare cioè no sì stai in spiaggia a fare a fare mi sento male tu stai in spiaggia mentre il tuo bot lavora al posto tuo è questo ok una volta quindi qui è molto semplice create ti dà praticamente tu gli chiedi tutte le cose e lui ti risponde è molto semplice creare qualsiasi cosa ora vediamo un nuovo chatbot e piano piano sì una volta che utilizzate il gpt builder su create su configure si aggiorna quindi nome Michele Maraglino business ufficiale descrizione esperto in business online basato sui video di Michele Maraglino il gpt Michele Maraglino business è progettato per fornire consigli su come creare e gestire un business online nonché su come guadagnare online si basa sulle esperienze sulle lezioni apprese dal video del canale youtube di Michele Maraglino io aggiungerei qua business perché ce n'è anche Michele Maraglino musica questo gpt ideale per imprenditori aspiranti imprenditori chiunque sia interessato a volerne sapere di più sul mondo dei business digitali offre suggerimenti pratici e strategie argomenti come il market cioè tu questa questa istruzione le puoi usare anche per la tua pagina di vendita e su argomenti come il market in digitale le canzioni contenute le strategie di monetizzazione molto altro si impegna a fornire risposte chiare e utili integrando esempi e concetti dai video di Michele youtube di Michele Maraglino business qui poi possiamo modificare tutto conversazione stand start sono queste e potrei anche modificarle o aggiungerle qua potrei applaudare dei file ulteriori per quello io pensavo di poter caricare dei video ma gliel'ho chiesto e mi ha detto di no qui si possono addirittura con delle app che diciamo offrono integrazioni con le API di GAPT farli fare delle cose me lo studierò però è una bomba allora io faccio update only for me conferma salviamo ma adesso andiamo a vedere no 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 only me confirm vediamo vediamo il mio mi ha dato il link incolliamo questo link eccolo qua però è solo per me quando poi andrò da qua fa VGPT e siamo qua però io voglio vedere vado un attimo su modifica no vado un attimo su explorer vado su qui faccio edit voglio è chiuso è chiuso è chiuso only for me va bene torniamo indietro vediamo vediamo adesso come crearne uno non lo so avete un canale youtube avete fatto un cash cow channel mi sento male avete fatto un cash cash cow channel facciamo finta stanno arrivando le testimonianze devo registrare dei video perché i miei studenti sono arrivati a monetizzazione c'è chi l'ha preso e ha notevolmente migliorato devo fare dei video per portarvi le testimonianze andate sui link in descrizione se volete guadagnare con youtube posso seguirvi da vicino ci sono le consulenze 4 video pronti fatti in maniera professionale di oltre 10 minuti il corso youtube secret andate su cash.michelemarino.com è una bomba quindi avete un cash cow channel volete creare magari diventa famoso o qualsiasi diciamo pagina social che avete o qualsiasi bot oppure semplicemente create qualcosa che sia utile in una nicchia vi basta andare qui create a gpt ed ecco qui inizi allora mi inizierei a dirgli puoi parlare italiano ok nella sezione creata inizi a parlare allora vediamo qualcosa che possa essere utile allora un ricettario vegano ok come desideri che sia il comportamento del gpt che stiamo per creare puoi fornire indicazioni come un assistente che offre consigli di moda un esperto in cucina italiana che pernisce ricette vorrei creare vorrei creare un'app per un'app super super esperta di ricette vegane proprio gli parli così ricette vegane la gente magari scrive gli ingredienti che ha e la tira fuori la migliore ricetta gustosissima che sappia non far sentire la mancanza dei cibi che i vegani non mangiano vediamo un po' che succede facciamo una domanda mi puoi puoi farlo puoi farlo allora lui sta adesso sta sta rispondendo sta costruendo solo che non si è aggiornato eccolo qua updating gpt adesso di solito mi dovrebbe dare il nome se vedete qua su configure non c'è niente e piano piano si compila mentre lui potremmo configurarlo direttamente da qua ma io utilizzerei l'intelligenza artificiale allora adesso dovrebbe darmi il nome dovrebbe anche darmi un'immagine il nuovo nel nuovo gpt plus quindi quello con l'abbonamento ci avete anche da lì quindi abbonatevi e ci avete anche i creatori di app i gpt a me questa roba che posso salvarmi il link privato e quindi solo chi è il link può accedervi mi permette di venderle e mi sento male mi sento mi sento mi sento mi sento mi sento male però ecco per evitare magari qualcuno anche questo link può andare in giro usiamo il marketing usiamo la testa allora io creo un servizio dove per tutti i miei follower una volta al mese faccio delle zoom io di persona ok capite è un servizio che io andrei ad offrire all'interno di un pacchetto più grande queste sono strategie di marketing e io voglio allenare il mio gpt in modo che ve le dia anche lui se lo utilizzate e quindi lo devo affinare e vedete lo posso affinare mettendo contenuto inedito pazzesco quindi io magari creerò e vi consiglio anche voi se avete una community crei un servizio più ampio per i tuoi follower dove una settimana dove una volta al mese fai una zoom con tutti e tutti ti possono parlare dal vivo e in più c'hanno 24 ore su 24 il gpt il gpt mi sento malissimo ecco perché avevo fatto il video chi ha una community farà un sacco di soldi con c'ha il gpt allora wow mi sento malissimo perfetto ho configurato il gpt come un esperto di ricette vegane sarà in grado di suggerire piatti deliziosi e nutrienti basati su ingredienti che gli utenti hanno a disposizione vedete che si crea no vabbè mi sento male hanno a disposizione offrendo alternative vegane e consigli per rendere piatti più gustosi ora quali nomi ti piacerebbe dare a questo gpt puoi essere quello come chef vegano ecco la foto sì mi piace a questo punto gli potreste dire no non mi piace farla più così o così farla più con lì o con lì ok ora concentriamoci su definire meglio il comportamento del gpt ti guida tu lo puoi creare parliamo del suo ruolo e degli obiettivi come dovrebbe interagire con gli utenti voglio che sia puramente informativo che abbia un tono amichevole e incoraggiante voglio che abbia un tono amichevole e incoraggiante questo lo devo mettere anche al mio perfetto chef vegano sarà il nome del nostro gpt rispetto ai ricette vegane ora parliamo del suo ruolo e degli obiettivi allora intanto gli dico ah vabbè sta finendo di parlare lui chef vegano sarà il nome ecco adesso vedete qui si aggiorna ora parliamo del suo ruolo e vedete come vorrebbe interagire adesso mi ripete tutto quello è devastante o sbaglio ragazzi è devastante o sbaglio dammi una lista dei tuoi ingredienti cerco una ricetta vegana per cena come posso rendere questo piatto vegano quali spezie usare in una ricetta vegana pazzesco intanto su configure vedete eccolo qua potete modificare e mi sento male ora tu sei un vegano no? allora magari lo vuoi personalizzare dici guarda vorrei vorrei che fosse specializzato adesso glielo dico vorrei che fosse specializzato in ricette per quelli che stanno iniziando a diventare vegani magari può essere un'idea questo è un esempio poi sbizzarrite la vostra fantasia cioè vegano avrà un approccio amichevole e incoraggiante certo che nome è offrendo suggerimenti utili e motivando gli utenti nella cucina vegana ora ora ci sono particolari cose che dovrebbe evitare o enfatizzare questo potrebbe includere non solo gli ingredienti ma anche il modo di esprimersi va voi continuatelo allenate il mio consiglio è rendete unico il vostro chatbot non so se è un chatbot il vostro GPT e quindi createlo su qualcosa di cui siete competenti si parte sempre da lì avete una competenza bene potete monetizzarlo online adesso abbiamo un ulteriore strumento non so cosa dire vorrei che fosse e poi lo proviamo vorrei che fosse esperto di ricette per chi sta iniziando da poco la dieta vegana e il GPT inizia a lavorare al posto vostro e io mi sento male mi sento veramente malissimo ok dopo lo proviamo lo salviamo le informie e li proviamo a fare a chiedere delle cose è pazzesco iscriviti al canale e guardati anche gli altri video se ti interessa business online anche futuristico qui stiamo sempre aggiornati quindi iscriviti al canale commenta aiutatemi ragazzi commentate micchi assurdo scrivete queste cose scrivete qualcosa commentate perché mi aiutate tanto è pazzesco tutto questo veramente quando ho aperto ripeto questo canale youtube non immaginavo minimamente di poter creare un'app quante volte voglio creare quest'app la potete creare senza essere sviluppatori e la potete vendere la salvate come solo chi ha il link e quindi quel link lo vendete magari lo mettete all'interno di un servizio online se avete dei social e lo avete un seguito è più facile venderlo pam servizio in abbonamento è fatto fantastico vegano ora è configurato per essere particolarmente utile a chi è nuovo nella vita vegano offrendo ricette semplici per quanto riguarda il linguaggio come preferisci vuoi che usi linguaggio informale e te l'ho già detto qualcosa di più amichevole amichevole ok dai adesso lo proviamo adesso lo proviamo posso fare posso fare vediamo configurazione specializzata del genere con un focus particolare sui principianti nella cucina vegana si aggiorna quando lo tu gli dai un comando lui si aggiorna aggiungiamola una question come posso come posso iniziare al meglio la dieta vegana ok qua posso fare facciamo salva ora chef lo stile di comunicazione mi chiamo da informale public only people with a link only me ora lo stile di comunicazione è perfetto perché è nuovo nel mondo vegano ultimo passaggio c'è qualche caratteristica unica che vorresti aggiungere chef vegano questo potrebbe essere legato al suo carattere e qui lo andate a personalizzare come volete è molto semplice parlate con il gpt builder ed è fatto ed io mi sento veramente 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 meramente male allora salva quindi quindi qui vi ripeto only people with a link e lui ti dà il link e io mi sento male only me conferma lo saliamo solo per me e lo andiamo a provare eccolo qua noi ce l'abbiamo se io vado su explorer dovrei avere ecco chef vegano questi sono i miei e Michele Maralino business ufficiale se vado su chef vegano eccolo qua ho una cipolla e del tofu cosa posso cucinarmi vediamo che mi dice chef vegano dimmi cosa cucinarmi ciao con una cipolla e del tofu ho già le vasi per un piatto semplice ma gustoso ecco una ricetta che puoi provare un saltellau di tofu e cipolla un salteato salteato di tofu e cipolla e via e via e via questo è solo un esempio solo un'obbligazione ragazzi io mi sento malissimo iscrivetevi se volete che io sopravviva a tutto questo volete altri video aggiornamento altre idee di business mi sento male qualcuno mi ha detto un altro video che ho fatto là quello appunto su mi sento male quello su appunto chi ha una community create la vostra community guardate nei link in descrizione create un canale youtube un cash cow channel perché poi potete creare il vostro gpt per chi ha una community free social c'è un'opportunità incredibile lasciate perdere il curriculum lasciate perdere il lavoro sicuro non so come dirvelo guardate cosa se io esco fuori di strada la gente la faccia il porto della gente non sa niente non sa niente io vado fuori di testa vado fuori di testa ho creato un bot che parla come me mi sento male iscriviti al canale per altri video qui lui mi sta facendo la ricetta iscriviti iscriviti commenta 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 facciamo esplodere questo panale perché se lo merita ditemi amici ti meriti 20.000 iscritti iscrivete questo e noi ci vediamo nel prossimo video fatemi sapere iscrivetevi al canale commentate distruggete il pulsante dei like ciao ragazzi benvenuti in questo video oggi vedremo lo store finalmente cia gpt ha rilasciato lo store dei gpt basta collegarsi a cia gpt ok credo la versione 4 quella a pagamento che ci permette di creare il nostro gpt ovvero creare il nostro bot personalizzato sfruttando l'intelligenza artificiale che diciamo va a risolvere un problema in una determinata nicchia possiamo crearlo possiamo pubblicarlo e possiamo anche guadagnarci ci possiamo guadagnare perché hanno annunciato che nel primo quadrimestre del q1 del 2024 quindi nei prossimi mesi attiveranno la monetizzazione questo che vuol dire che in base a quanto saranno utilizzati i gpt e loro daranno dei soldi in base a quanti click a quanto sarà utilizzato vedremo in futuro quindi iscriviti al canale perché vi farò degli aggiornamenti quando tutto questo sarà realtà ma intanto questa è un'opportunità se tu riesci a creare un gpt con i giusti prompt che risolvi un problema specifico che è utile e la gente lo usa puoi guadagnare online semplicemente con chat gpt direttamente dentro chat gpt non usi chat gpt per creare qualcosa con l'intelligenza artificiale che ti aiuta crei un libro crei un sito crei qualsiasi cosa un testo ti vendi articoli abbiamo visto in questo canale youtube una marea di utilizzi che chat gpt ci permette ci facilita il lavoro e quindi ci fa guadagnare online iscriviti al canale se non sei ancora iscritto guardati la playlist video corsi completi gratis su come guadagnare c'è anche la playlist come guadagnare con chat gpt darci un occhio qui parliamo proprio di business online e l'intelligenza artificiale ci aiuta quindi non solo chat gpt è uno strumento incredibile che ci permette appunto di guadagnare online ma lo fa anche ci dà proprio una possibilità di monetizzare proprio attraverso il suo store adesso lo guardiamo stiamo sulla mia home page l'hanno rinascato credo oggi o ieri non lo so se lo trovate stanno facendo gli aggiornamenti può darsi che magari avete chat gpt ma ancora non lo vedete però qui c'è l'hanno aggiornato la sezione esplora adesso è diventata esplora gpt e si presenta così c'è anche una barriera una barra di ricerca e allora ci sono tutte le categorie di gpt ripeto voi potete crearne uno l'ho fatto vedere in altri video vi metto anche il tutorial nelle schede ho creato il mio personalissimo chatbot michele varalino business che è ancora privato potrei pubblicarlo voi lo potreste utilizzare e quando attivano la monetizzazione io potrei guadagnare incredibile ripeto per chi ha una community quindi chi ha un seguito sui social questa roba è potentissima per monetizzare perché vi aiuta tantissimo però anche se non avete nessuna voglia di mettervi sui social a costruire la vostra community potete costruire il vostro gpt e guadagnare se fate un bel lavoro ma andiamo a vedere le categorie allora questo i featured sono quelli praticamente che diciamo in evidenza credo che hanno praticamente sponsorizzato non so se hanno accordi con c'è gpt li vediamo qui credo che ruoteranno ogni tot di tempo cambieranno allora trending poi c'è la categoria quelli che sono più popolari per esempio questo consensus ti permette di accedere a 200 200.000 no 200.000 sarebbe 200k 200m sono 200 milioni di papers accademici ok per tutti quelli che studiano università studi 200 milioni di papers accademici quindi puoi fare una ricerca mirata direttamente nei papers accademici ce ne sono tantissimi anche che ti aiutano a scuola hai pdf tu praticamente cosa fa questo ai pdf puoi mettere un praticamente pdf e qualcosa fa credo te lo trasforma in diciamo in testo e sono quelli più in trending poi ci sono tutte le varie categorie quelli creati direttamente da cia gpt quelli che hanno a che fare con dalì che diciamo il tool cioè l'intelligenza artificiale creata dalla stessa casa madre di cia gpt che è open AI che riguarda le immagini che è integrato adesso nel cia gpt 4 quello a pagamento 20 dollari al mese pazzesco questo logo creator pazzesco ora i loghi quindi crea un logo crea un logo per una squadra di calcio A5 in provincia di Alessandria la squadra la squadra si chiama si chiama Alex football football vediamo non so se ho scritto bene chiedo scusa se potremmo football si scrive così forse una O alla fine ma tanto lui capisce adesso creerà il logo in the provincia ah ti chiede un po' di questioni mettiamo A bellissimo e adesso lo sta creando next question vabbè bomba 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 quindi tutti i tool di immagini il logo gpt poi c'è la sezione produttività la sezione ricerche analisi che è potentissima programmazione tutti i tool che ti aiutano anche un A's voice generator ragazzi dategli un occhio perché è una bomba abbonatevi a gpt4 che è una bomba vediamo questo AI voice generator se di puoi parlare vediamo che mi dice certo posso trasformare il testo in audio se hai un testo specifico cioè questo ti trasforma il testo in audio avete capito cioè i gpt sono dei chat gpt specifici per una categoria e voi li potete creare e non vi serve non vi serve saper programmare l'abbiamo visto in altri video adesso lo vediamo comunque mi basta dare dei semplici comandi dei prompt e create il vostro gpt se lo pubblicate e guadagnate tra qualche mese posso se hai un testo specifico che vuoi sentire come audio per favore condividilo con me inoltre scegli una delle seguenti voci per la tua registrazione audio pazzesco poi c'è la categoria educazione lifestyle carica di più e poi qui c'è la ricerca no? qui in alto voglio voglio giocare no fidanzate vediamo se c'è fidanzate a i fidanzate fidanzata virtuale nessuno ho trovato questa è una grande idea non so se avete visto il video ve lo metto qui nelle schede potreste sviluppare un chat gpt una chat bot donna come vi ho fatto vedere nel video precedente credo ho pubblicato altri video comunque come crea una ragazza una fidanzata virtuale con chat gpt e focus mamma andatevi a vedere quel video ve lo metto qui nelle schede qui in alto a destra vedete c'è il pulsante crea un gpt potete dare un comando qui crea una fidanzata virtuale ok lui crea una fidanzata virtuale ovviamente il prompt deve essere più specifico più specifico più siete dettagliati più funzionerà meglio e più una volta che l'avete pubblicato potreste una volta pubblicato guadagnare perché più è fatto bene più la gente lo userà ok quindi c'è anche questa possibilità quindi per crearlo vi basta mandare un comando quindi cliccate in alto a destra su crea gpt e stop eccolo qua qui su configura potete dargli un nome girlfriend ai bomba ok poi andate qui potete salvare come pubblico anche nella categoria vediamo tutte le categorie che ci sono lifestyle education programming research analysis produttività scrittura ci sono tutti i tool di scrittura adesso li vediamo qui mettiamo other e lo pubblichiamo io non lo faccio perché però abbiamo un'idea creato un gpt originale e la gente lo utilizza elimina gpt magari poi potrei pensare di farlo meglio e se io scrivo writing writing qualcosa mi uscirà easy writer professional writing coach creative writing coach bomba 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 vi voglio far vedere l'ultima cosa se andiamo sul nostro qui nome profilo Michele Maraglino quando ho creato un gpt potete scegliere se far vedere il vostro nome quindi per esempio Michele Maraglino cioè la mia fidanzata virtuale Emanuela vai Michele Maraglino compare per modificare potreste mettere anche un sito internet se avete le vostre attività basta andare qui in basso a sinistra impostazioni e poi profilo del costruttore potete mettere il vostro nome o il sito web e e a questo punto dovete verificare un nuovo dominio e invece del nome Michele Maraglino magari c'è il vostro sito che è cliccabile che potrebbe essere anche un'ottima pubblicità quindi controllate se avete già gpt4 entrate e poi cliccate vedete se ne è uscito l'explorer gpt a quel punto avete accesso allo store potete utilizzare questi gpt's gratuitamente potete creare il vostro potete renderlo pubblico così tutti lo possono usare e nei prossimi mesi cia gpt monetizzerà pagherà i creator di gpt's almeno quelli che saranno più utilizzati poi vedremo come però molto molto interessante fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi iscriviti al canale commenta e noi ci vediamo in un prossimo video ciao